Il quinto esercizio del percorso vita prevede la sbarra. Il primo esercizio che proponiamo è mantenersi in posizione con la testa sopra a livello della sbarra. Un'alternativa a questo esercizio possono essere delle trazioni arrivando sempre con la testa a superare la sbarra. In alternativa rimanendo in trazione con le braccia posso effettuare con gli arti inferiori delle circonduzioni.